La dotazione di posti letto di cura intermedia a Lucca si arricchisce di 14 nuovi posti inaugurati dal presidente della regione toscana Enrico Rossi alla presenza delle autorità locali e rappresentanti dell'ASL nella cittadella della salute Campo di Marte a Lucca. I nuovi letti sono destinati ai pazienti che non necessitano più di cure ospedaliere ma che continuano ad avere bisogno di assistenza e portano a 52 i posti letto disponibili. La zona di Lucca, come tutta l'area della Toscana Nord-Ovest, tra l'altro, è stata duramente messa alla prova dell'emergenza Covid. Per questo, l'obiettivo della regione è portare da 315 a 510 i posti letto di cura intermedia nei territori di questa ASL e di arrivare a 1600 posti in più in tutta la Toscana per creare un anello di congiunzione sempre più stretto tra ospedale e domicilio.